Musica Le 18.34 in questo momento, un buon inizio di settimana in compagnia di TG2000. In primo piano il forte richiamo del Papa in difesa del creato. Una necessità che però è spesso disattesa per la sottomissione della politica alla tecnologia e alla finanza, detto Francesco. A dimostrarlo ha aggiunto il ritardo nell'applicazione degli accordi sull'ambiente. In diretta allora per il racconto di tutto Federico Plotti, la piazza San Pietro. Federico a te. Buonasera Barbara, buonasera a tutti. Allora in apertura di collegamento come anticipavi tu da studio vi parliamo dell'udienza di Papa Francesco agli scienziati che stanno partecipando alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze riunita a Roma in questi giorni da venerdì scorso e lo sarà fino a domani per discutere, per dibattere sull'impatto delle conoscenze scientifiche sull'uomo e soprattutto sull'ambiente in cui vive. Spetta agli scienziati liberi da interessi politici, economici o ideologici costruire modelli culturali capaci di affrontare la crisi dei cambiamenti climatici e delle sue conseguenze sociali ha detto il Papa durante il suo discorso. E la protezione del creato è un tema molto caro a Papa Francesco, un tema centrale del suo pontificato al quale ha dedicato, come certamente saprete, anche un'enciclica, l'ha laudato sì. E proprio di questo incontro ci parla adesso Cristiana Caricato con il prossimo servizio e poi torniamo ancora qui a San Pietro per altre notizie. Il pontefice della laudato sì torna ad alzare la voce per la salvaguardia del creato. Incontrando scienziati, tra cui il noto astrofisico Stephen Hawking, ricercatori e osservatori chiamati in Vaticano a riflettere sull'impatto delle conoscenze scientifiche sulla società umana e sull'ambiente, Francesco ha chiesto di creare un sistema normativo che assicuri la protezione del creato prima che la follia umana produca danni irreversibili. La Chiesa e la scienza unite nella ricerca di un nuovo equilibrio ecologico. Si sta manifestando una rinnovata alleanza tra la comunità scientifica e la comunità cristiana che vedono convergere i loro diversi approcci alla realtà verso questa finalità condivisa di proteggere la cassa comune minacciata dal collasso ecologico e dal conseguente aumento della povertà e dell'esclusione sociale. Il Papa chiama ad una nuova sollecitudine per la Madre Terra, un'assunzione di responsabilità libera da interessi politici ed economici che sappia costruire un modello di sviluppo in cui le potenzialità produttive non siano riservate a pochi. Allo stesso modo in cui la comunità scientifica, attraverso un dialogo interdisciplinario al suo interno, ha saputo studiare e dimostrare la crisi del nostro pianeta, così oggi è chiamata a costruire una leadership che indichi soluzioni in generale e in particolare sui temi che vengono affrontati nella vostra plenaria. L'acqua, l'energia rinnovabile e la sicurezza alimentare. E accanto all'appello per cessare il saccheggio del pianeta, anche la denuncia di una reazione debole della politica internazionale, sorda agli allarmi degli scienziati. La sottomissione della politica alla tecnologia e alla finanza che cercano anzitutto il profitto è dimostrata dalla distrazione o dal ritardo nell'applicazione degli accordi mondiali sull'ambiente nonché dalle continue guerre di predominio mascherate da novi di rivendicazione che causano danni sempre più gravi all'ambiente e alla ricchezza morale e culturale dei popoli. E tra le udienze di oggi per Papa Francesco anche quella con gli organizzatori e i collaboratori del Giubileo straordinario della Misericordia che si è concluso pochi giorni fa il 20 di novembre scorso. Il Papa ha espresso profonda gratitudine per il lavoro svolto, ringraziando proprio tutti, veramente tutti, a partire dall'instancabile Monsignor Rino Fisichella, così lo ha definito Papa Francesco Fisichella, che è il presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione ed è stato anche colui che ha gestito questo Giubileo straordinario della Misericordia. E adesso, come spesso facciamo, vi parliamo della messa mattutina celebrata anche oggi da Papa Francesco a Santa Marta. La fede cristiana non è una teoria o una filosofia, ma è semplicemente l'incontro con Gesù, ha detto il Papa durante l'Omelia. E per incontrare veramente Gesù consiglia il Papa all'inizio dell'Avvento, dobbiamo metterci in cammino, restando vigili nella preghiera, operosi nella carità ed esultanti nella lode. Allora adesso ascoltiamo insieme proprio un momento, un passaggio dell'Omelia di questa mattina e poi subito dopo le parole del Papa Lalina può tornare allo studio. Vigilanti nella preghiera, operosi nella carità e esultanti nella lode. Cioè, devo pregare con vigilanza, devo essere operoso nella carità, la carità fraterna. Non solo dare una elemosina, ma anche tollerare la gente che mi dà fastidio, tollerare a casa i bambini quando fanno troppo rumore, o il marito o la moglie quando ci sono difficoltà, o la suocera, non so, va a tollerare, tollerare sempre la carità operosa. E anche la gioia di lodare il Signore, esultanti nella gioia. Così dobbiamo vivere questo cammino, questa volontà di incontrare il Signore, per incontrarlo bene, e non stare fermi. E incontreremo il Signore. Così dunque, Papa Francesco a Santa Marta, noi passiamo adesso alla politica, perché è cominciata la settimana che sfocerà domenica. Nel voto per il referendum costituzionale, Renzi oggi ha detto che ci sono molti indecisi, e la partita è ancora apertissima. Nel pomeriggio è stata approvata alla Camera, intanto la legge di stabilità. Il Governo promette dai 30 ai 50 euro in più per le pensioni più basse. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Clima sempre più acceso a sei giorni dal voto. Da una parte i sostenitori del no, dall'altra quelli del sì nel mezzo, gli indecisi, che alla fine determineranno il risultato finale. Ma già si pensa al dopo referendum, e soprattutto nel caso di una vittoria del no, si evocano possibili governi tecnici. Prima dice che il referendum non ha nulla a che fare con il Governo, poi ci dice che se vince il no, ci sarà un Governo tecnico. Mettiti d'accordo con te stesso, caro Presidente Protempore Renzi. La Cassazione invece ha respinto come inammissibile il ricorso del Codacons contro il quesito referendario, ma la partita sulla riforma si incrocia con l'economia. Via libera dalla Camera la legge di stabilità da 26,5 miliardi di euro, ma per l'approvazione definitiva deve arrivare il sì del Senato, previsto per dopo il referendum. Potrebbero esserci anche profondi cambiamenti del testo. Ma il Governo difende la manovra e il Premier annuncia un aumento tra i 30 e i 50 euro per le pensioni più basse e il rinnovo dei contratti dei dipendenti statali. Sulle pensioni abbiamo quantificato, non era quantificato l'altra volta, sono da 30 a 50 euro al mese per le pensioni più basse. Non siamo riusciti ad arrivare agli 80 euro, ve lo ricordate, ma abbiamo fatto per la prima volta un aumento per le pensioni sotto le 1000 euro. Allora, a proposito di referendum, da oggi fino a giovedì nel TG Post, quindi al termine del telegiornale, ascolteremo le ragioni del sì e del no esposte dai rappresentanti dei due schieramenti. Cominciamo oggi con l'intervista con lei che ha dato il nome alla riforma costituzionale, la ministra Maria Elena Boschi. Dunque appuntamento con la sua intervista tra pochissimo, circa 10 minuti, ma l'incertezza politica che deriverebbe da un no al referendum innervosisce i mercati finanziari. Il Financial Times scrive che in caso di bocciatura del nuovo testo costituzionale ci sarebbero otto banche a rischio. Al microfono di Giorgio Schiavoni, l'economista Leonardo Becchetti spiega qual è la situazione e se ci sono veramente dei pericoli. Lo sentiamo. Banche italiane sempre più nel mirino degli operatori finanziari. Il timore del no al referendum del 4 dicembre sta schiacciando i titoli bancari italiani e crea difficoltà ai vari processi di ricapitalizzazione in corso e futuri. Il problema è solo oggi che si chiedono dei requisiti maggiormente severi per evitare che si verifichino delle crisi in futuro. Quindi è bene che cerchiamo di migliorare la capitalizzazione di queste banche proprio per evitare difficoltà. A torto o a ragione, all'estero il governo Renzi viene percepito come l'unica possibilità di stabilità e riforme. E non si crede che un eventuale esecutivo tecnico possa garantire le condizioni necessarie alla delicatissima ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena, lo snodo principale della riorganizzazione del sistema bancario italiano. Io credo che si creino certe volte delle ansie mediatiche, delle ondate di paura che ovviamente fanno comodo a chi vuole speculare. Il problema, ripeto, è sotto controllo. Non ci sarà un'apocalisse né in un caso né nell'altro. L'Istituto Senese ha perso circa il 10% in borsa oggi e ci sono stati vistosi cali per quasi tutte le banche italiane quotate a Milano. Quindi è importante anche che i risparmiatori imparino a guardare anche al profilo di rischio delle banche. Abbiamo bisogno di banche che abbiano la mission di lavorare per il territorio e che non si lancino in avventure pericolose. Cambiamo argomento, fanno rumore le parole di Donald Trump che oggi in un tweet ha minacciato di bloccare l'accordo con Cuba se la vanna non accetterà di cambiarlo. Intanto sull'isola è iniziata la settimana di lutto per Fidel Castro in attesa dei funerali. Domenica, Nicola Ferrante. Una lunga fila rende omaggio al leader Maximo iniziato poche ore fa l'estremo saluto di Cuba a Fidel Castro. Le ceneri esposti in un memoriale allestito nel palazzo dedicato all'eroe nazionale José Martí. Si apre una settimana di onoranze funebri. Primo evento di massa domani in Italia sarà notte in piazza della rivoluzione alla presenza delle delegazioni internazionali non ci sarà Putin. Mercoledì le ceneri cominciano il giro dell'isola in una lunga processione laica di quattro giorni per consentire a tutti i cubani di rendere omaggio a Castro. Un viaggio ritroso per ripercorrere la marcia dei ribelli da Santiago a Lavana quando trionfò la rivoluzione del 59 fino ai funerali del 4 dicembre proprio a Santiago di Cuba. sull'isola la domenica trascorsa fra preghiera e silenzio qui siamo nella cattedrale di Lavana. È vero è stato un colpo molto duro per tutti dice questa donna all'uscita da messa mi riferisco non solo a chi lo ha amato ma soprattutto a chi non lo ha sostenuto e anche se aveva 90 anni non ti auguri mai la morte di una persona soprattutto di uno come lui di cui apprezzavo non solo ciò che aveva fatto ma il suo modo di essere. Attesa inserata una dichiarazione della conferenza episcopale cubana sentimenti opposti e contrastanti a Miami quest e Little Cuba il rifugio degli esuli l'opposizione cubana in esilio in Florida non celebriamo la morte ma la libertà recita questo cartello grazie a Dio finalmente il paese è libero il tiranno è morto adesso ci saranno altri cambiamenti commenta quest'uomo Caroselli e scene di giubilo mentre già preoccupa l'ultimo tweet del presidente eletto Trump che scrive se Cuba non vorrà sottoscrivere un'intesa migliore per le condizioni dei cubani sono pronto a porre subito fine all'accordo con Cuba Viva Trump Viva Trump In Siria la battaglia per liberare Aleppo è entrata nella fase più delicata le truppe governative hanno conquistato buona parte della zona orientale della città strappandola ai ribelli ma la situazione umanitaria è drammatica e drammatica non solo ad Aleppo il servizio di Massimiliano Cocchi Chi può fugge dai quartieri est di Aleppo centinaia di famiglie nelle ultime ore approfittando dell'avanzata dell'esercito governativo stanno abbandonando i quartieri controllati dai ribelli le immagini diffuse dal regime mostrano pullman e punti di raccolta per questi nuovi profughi il messaggio che i fedelissimi di Bashar al-Assad vogliono far passare a quello di una popolazione liberata in realtà è la fuga disperata di chi da mesi vive in quella parte della città stretta da sedio e bombardata senza sosta dai jet siriani e russi la vita lì è terribile spiega questa donna non c'è pane non c'è cibo non c'è zucchero e neanche le sigarette non c'è niente di niente abbiamo visto la morte in faccia da giorni le forze governative con l'appoggio dell'aviazione russa stanno intensificando l'azione contro i quartieri est di Aleppo avrebbero riconquistato tre distretti tagliando in due le postazioni dei ribelli fiaccandone così la resistenza il destino della seconda città della Siria sembra ormai segnato ma è 40 chilometri più a nord verso il confine turco tra le città di Jarabulus e Mamji che si combatte un'altra battaglia meno importante dal punto di vista simbolico rispetto a quella di Aleppo ma forse più significativa dal punto di vista diplomatico e militare perché i soldati turchi entrati in Siria grazie ad un tacito accordo con Damasco e Mosca starebbero sostenendo parte delle forze antigovernative siriane l'obiettivo è indebolire i kurdi che sono i veri nemici della Turchia e che stanno avanzando in questa regione a metà agosto erano stati loro a riconquistare la città di Mamji proprio quella su cui qualche giorno fa ha minacciato di marciare il presidente turco Erdogan un segnale chiarissimo più che per i kurdi per i loro alleati nella regione gli Stati Uniti d'America in Ohio adesso dove di almeno otto feriti di cui uno grave il bilancio dell'eruzione di una persona armata in un campus universitario non escluso però che gli assalitori siano due e la polizia di Columbus ritiene di aver ucciso uno dei due sospettati dell'attacco il secondo sarebbe ancora in giro per il campus a dare l'allarme alle 15.50 ora italiana è stata la Ohio State University che su Twitter ha chiesto agli studenti di rimanere al chiuso e di seguire le indicazioni della polizia queste le immagini che arrivano dall'Ohio parliamo adesso di bullismo perché secondo una recente indagine ne vittima un adolescente su tre e l'avvento di internet e di social network non ha fatto altro che amplificarne gli effetti Pierluigi Vito basta poco a trasformarsi in bullo anzi in cyber bullo uno smartphone un account social e la volontà di diffondere senza limiti angherie e sopraffazioni su persone fragili è questo che più spaventa come conferma un'indagine edemos pubblicata dal quotidiano La Repubblica 7 italiani su 10 considerano il bullismo una vera e propria emergenza in particolare per la pervasività concessa dal web se la prepotenza c'è sempre stata ora il fenomeno si amplifica perché con le nuove tecnologie crollano le barriere di tempo e spazio un video violento denigratorio può rimanere a lungo a disposizione dello sguardo morboso di utenti in ogni parte del mondo chi ne fa le spese? nell'ultima rilevazione doxa kids si dicono vittime di bullismo il 35% dei ragazzi italiani tra gli 11 e 19 anni in pratica più di uno su tre e più colpite sono nettamente le femmine con una proporzione di 56 a 44 che si ritrovano addosso ferite difficili da cancellare secondo l'istat a parlare di una diffusione sempre più ampia di questa brutale realtà non sono i più giovani interpellati tra i 15 e i 24 anni bensì i fratelli maggiori la fascia dei 25 e 34 anni ma pure notano una maggiore incidenza di questo aspetto persecutorio legato ai nuovi media gli adulti tra i 55 e i 64 anni tanto che viene da chiedersi se siano proprio gli strumenti che abbiamo a disposizione ad aumentare le occasioni di comportarci in maniera tanto biega la cronaca giudiziaria è stata condannata a 5 anni e 2 mesi l'ex sindaco di Genova Marta Vincenzi per i tragici fatti dell'alluvione del 4 novembre 2011 in cui persero la vita 4 donne e 2 bambine la Vincenzi era accusata di omicidio plurimo disastro colposo plurimo falso e calunnia per quest'ultima accusa è stata assolta io mi considero innocente meno male che in Italia sono previsti 3 gradi di giudizio non è finita qui queste le parole della Vincenzi cambiamo argomento adesso parliamo di un brutto episodio che si è verificato in una scuola di Palermo un professore è stato picchiato dai genitori di un ragazzo per aver rimproverato il loro figlio in aula oggi corteo di solidarietà per il docente fra le vie del capoluogo siciliano Leonardo Possaci no alla violenza sia al rispetto e al confronto i genitori gli insegnanti gli studenti della scuola media Antonino Caponnetto di Palermo sfirano in corteo per fare sentire la loro voce dopo i fatti del 20 novembre scorso quel giorno un loro professore venne pestato a sangue dai genitori di un ragazzo che lui il giorno prima aveva rimproverato e allontanato dall'aula un episodio sconcertante che ha suscitato subito l'indignazione della comunità locale e che adesso con un gesto concreto fa quadrato intorno al docente il fatto che è avvenuto è un fatto assolutamente grave che deve essere stigmatizzato da troppi anni si continua a parlare male dei docenti e di tutti gli operatori della scuola tutto questo sicuramente non ha agevolato il futuro di tutti è in mano a questi fanciulli che devono essere abituati e educati e cresciuti nella non violenza la priorità dunque è quella di ricostruire il patto educativo fra genitori e insegnanti per il bene innanzitutto dei protagonisti della scuola gli studenti e per farlo si riparte dalla manifestazione per la legalità di questo pomeriggio nel quartiere Tommaso Natale di Palermo una manifestazione di solidarietà per un uomo il professore picchiato e finito in ospedale che oggi vive nella paura e che con difficoltà cerca di tornare alla vita quotidiana e al suo lavoro con questi ragazzi io spero che abbia la forza e lo stato d'animo per riprendere a fare le lezioni per come aveva lasciato prima di quello che è successo e questa esperienza la possa dimenticare al più presto e possa portare come esperienza come bagaglio di esperienza soltanto le cose positive siamo al momento del nostro TG Post come anticipato in questa settimana che ci condurrà l'importante appuntamento di domenica prossima con il referendum costituzionale i nostri approfondimenti saranno tutti dedicati a questo tema con rappresentanti del sì e del no cominciamo oggi dunque con l'intervista di Donatello Vaccarelli alla ministra per le riforme costituzionali Maria Elena Boschi vi auguro una buona visione subito dopo il TG Post appuntamento con Sport 2000 mentre l'informazione di TG 2000 torna fra un'ora e mezza alle 20.30 a tra poco per le riforme Grazie a tutti.